Marco Amerighi, buonasera. Ciao e bentornato qui nel posto delle parole, dopo che ci siamo trovati per raccontare le nostre ore contate, credo tre anni fa, il libro pubblicato da Mondadori, mentre adesso da Bollati e Boringhieri, Randaggi. Marco Amerighi è insieme con noi dopo essere stato ospite a Scrittori in città. Ora, Marco Amerighi, partiamo dalle fascette che io conservo sempre, non fosse altro, perché servono anche come segnalibro. La fascetta non è una come tante, perché anzitutto contiene una frase che troviamo anche in quarti di copertina scritta da Sandro Veronesi. Magistrale, non c'è altra parola. La scrittura di Marco Amerighi Splende in questo romanzo. Ora, che effetto fanno queste parole, Marco Amerighi, dette da Sandro Veronesi? Beh, fanno un bel effetto, fanno una bella impressione. Sandro Veronesi aveva scoperto, in maniera del tutto autonoma e casuale, il mio primo romanzo, e mi aveva voluto conoscere, e ti racconto questo aneddoto che non credo ne avevamo parlato a suo tempo, ma a un certo punto mi arriva proprio un messaggio di un contatto da tale Sandro Veronesi che si presenta e fa i complimenti per il romanzo, e io ho cominciato a scrivere su tutte le chat di amici che avevo per chiedere chi avesse ordito questo scherzo della serie, adesso se appena scopro chi è stato ve la faccio pagare, e invece avevo scoperto che in realtà era esattamente andata così, era lui che si era manifestato in maniera totalmente autonoma e generosa, è stato generoso nel presentarmi il primo romanzo, e per questo è stata quasi una naturale prosecuzione. È stato il primo a leggere il romanzo, il primo a volerlo presentare, quindi è stato un po' più che un padrino, proprio un padre, ecco. Ecco, essere padri, parlando di questo romanzo, ci fa pensare alla figura del padre, perché qui anche la figura del padre viene raccontata in un modo molto particolare, ma prima di entrare in questa storia, io vorrei con Marco Americhi andare sull'immagine di copertina, perché questa immagine, Marco Americhi, credo che sia tutta da raccontare. Sì, la copertina è di Giuseppe Quattrocchi, disegnatore alla prima copertina per la narrativa italiana. Questa è una cosa che un po' mi inorgoglisce, nel senso che eravamo tutte e due ad una prova del nove, io perché mi staccavo da una major e arrivavo con un grande romanzo, per certi versi tradizionali, quasi 400 pagine, tante storie, tante trame, tanti temi, insomma il secondo romanzo è una seconda prova ambiziosa da questo punto di vista, e lui proprio perché era il primo, è stato un connubio secondo me molto bello, molto attivo, ed è riuscito a intercettare e a disegnare non soltanto i tre protagonisti del romanzo, perché al centro si vede Pietro Benati, il protagonista di questo romanzo, si vede fino a un certo punto, nel senso che si nota che la figura centrale sta scomparendo. E questo perché? Perché chi legge il romanzo, chi la letti, fra voglia di farlo, vedrà proprio nelle prime pagine che sulla testa di Pietro, così come gli altri membri della famiglia Benati, grava una maledizione, che è la maledizione della scomparsa. Cioè a un certo punto, con la storia, questa cosa succede dai primi del Novecento fino alla fine del secolo, tutti i membri maschi della famiglia Benati scompaiono. Il nonno Furio scompare nel 36 in Etiopia, quando si guerra, viene colpito da una granata e rimane per un anno, nessuno sa niente di cosa gli è accaduto, scopriremo che ha avuto un figlio, un'altra donna, viene rimpatriato con vergogna, avvita. Il padre di Pietro è un uomo che nell'88 scompare dal suo nido coniugale per un mese e ritorna senza nessuna spiegazione e senza la falange del dito Mignolo, tant'è che da allora poi lo erano immutilo. Insomma, su questi maschi della famiglia grava questa maledizione. E Pietro Benati, che a differenza dei suoi designati, non ha una grandiosità, non ha un lato eroico, anzi è il più ordinario dei personaggi, è il ragazzo senza qualità, potremmo dire, rimpastando il titolo di Musil e facendone un ragazzo. E quindi ecco, su di lui la maledizione grava quasi come aspirazione. Lui vorrebbe scomparire per far qualcosa di eroico, solo che in realtà nella sua vita non accade niente di memorato. E che cosa ci può essere di eroico in una vita? Lo scoprirà a sue spese, lo scoprirà a sue spese questo protagonista non solo del romanzo a proposito della sparizione, però parlando di sparizione, questo romanzo Marco Amirighi si apre con questa frase, trovava insopportabile l'idea di scomparire. Ora sembra essere tutto il contrario da quello che ci viene raccontato e invece sembra proprio che quasi ci fosse un DNA che votasse queste persone della famiglia Benati a sparire in qualche modo. Ma la sparizione, come già ci ha detto Marco Amirighi, era una sparizione senza ragioni, anche perché non sempre ci si può spiegare. E qui la mancanza di spiegazione apre delle porte infinite, Marco Amirighi, nella vita di questi personaggi? Sì, beh, allora innanzitutto perché Pietro trova insopportabile l'idea di scomparire perché la scomparsa è un atto di coraggio, un atto eroico, un atto che tocca tutti questi membri della famiglia e in un certo senso li giustifica, giustifica la loro vita, cioè loro sono le persone che sono diventate anche in ordine della scomparsa che hanno compiuto. Guarda caso, sono tutte scomparte memorabili. Pertino Tommaso, il fratello maggiore di Pietro, anche lui troverà un modo originale, del tutto eroico, di scomparire nelle ande boliviane. Quindi lui lo trova insopportabile perché dentro Pietro non c'è nessun carattere di memorato. E' un ragazzo che invece, a incontrare dei suoi predecessori, è marchiato, dicevi geneticamente, più che dalla tendenza alla scomparsa, o meglio in aggiunta alla tendenza della scomparsa, anche da una fifa tremenda, da una paura tremenda nei confronti del mondo e delle relazioni. Quindi, ecco, dietro, proprio dalle prime pagine, è un pare dilaniato da un conflitto, è come un vivio. Da una parte, diciamo, c'è sposare una vita che non è esattamente quella magari che avrebbe voluto per se stesso, però è rispecchiare la vita dei suoi predecessori. Dall'altro, invece, c'è una sorta di salto nel cuore. Pietro potrebbe muoversi verso un altrove, che come tale è affascinante, emozionante, perché non si sa che cosa contiene, però proprio per questo è anche rischioso. Quindi Pietro si trova proprio a un vivio. E quello che gli succederà è quello che succede un po' tutti noi. Cioè, vale a dire, per quanto ci sforziamo di lasciare la vita fuori dalla nostra stanza, con i rischi, con i fallimenti, con le paure, con i problemi, si chiama vita, dice Paul Oster all'inizio di aria d'inverno. E quindi accade a tutti nello stesso modo. Quelle cose che credevi accadessero solo agli altri, ecco che iniziano a accadere a tutti. Ma se qualcosa accade a me, Marco Amerighi, dipende da quello che io sono stato, dipende dalla famiglia, come è vissuta. In sostanza, quanto conta il passato su Pietro e anche su Tommaso, ovviamente? Il passato a volte è un macigno e col passato devi fare i conti, devi lottare, devi arrivare a un compromesso. Sì, è vero. Tutti i personaggi di questo romanzo hanno un passato scopo. Tornando diciamo ai tre protagonisti, perché il pittore è randaggio, il pittore è gestale. Pietro diventerà randaggio perché a un certo punto il fratello Tommaso l'obbligherà proprio a lasciare questo nido materno, un appartamento, una vita nel quale è cresciuto pieno di paure, pieno di fobie, per abbracciare una nuova vita. Ma insieme a lui ci sono anche altri personaggi che hanno dei passati. con Loran, l'altro protagonista, Raffi Grasso e Giuseppe e Imo Bertina, è stato, è stato, è stato, è fissata, profezionista, che in incidenti al salone di Achilles lo ha costretto ad abbandonare le gare. Ma al contrario di un Pietro, che se volete che sarebbe cervellato nella lagna, nell'autocomiserazione, e Loran invece la vive quasi come un nuovo inizio che allontana una famiglia troppo amorevole cerca di capire adesso cosa fare da questo figlio. Lo fa in un modo totalmente libero e talmente, se vogliamo, anche privo di freni come se lui, in un certo senso, risettasse il passato, non volesse più coltarlo, lo volesse sbrollare di dodo. Viceversa, invece, il terzo personaggio della copertina Dora vive per il proprio passato, vive immersa, sprofondata nel proprio passato perché le è accaduto un fatto quando aveva 18 anni il suo padre è scomparso, ecco il tema che ritorna, in questo caso si è suicidato, e da quel momento lei cerca di riempire questo vuoto, cerca di capire chi era questo uomo scomparso prematuramente e lo farà, guarda caso, dato che l'unica credità che possiede una cartolina scritta in spagnolo e affrancata da Madrid andrà proprio a Madrid, città in cui dietro si trova in casa, città in cui l'ora è andata a cercare di capire cosa fare della propria vita, e fa a Madrid Dora e però quello che fa non è altro che cercare una spiegazione del passato, una sorta quasi potremmo dire di detection, lei sta cercando degli indizi e le spiedono il proprio passato e spiegandoglielo l'aiutino a risolverlo, ma insomma si capisce anche dal modo in cui ne ho parlato che è impossibile che lei arrivi a una soluzione perché come si fa a sciogliere un nodo così grosso, come si fa a capire chi è stato padre e soprattutto perché ha deciso poi di abbandonare, di andarti, quindi in questo caso il passato sì che davvero è un macigno, questo per rispondere poi a tutta la tua domanda tirando in pallo tutti i personaggi, nessuno di loro troverà una risposta definita perché in romanzo si conclude che Pietro ha detto a domani, quindi è ancora un'età nella quale alcune domande possono essere sciolte e risolte, altre invece fanno parte di un processo di maturazione che si tratterà a qualsiasi. Eh sì, questo è un romanzo, potremmo dire, Marco Amerighi, anche se non ho mai amato le categorizzazioni, i cassetti, entro cui, è un romanzo che parla delle generazioni e parla del senso, ci svela anche il senso del diventare adulti, della difficoltà del diventare adulti, perché noi abbiamo un bel dire che i ragazzi, i giovani, qui là, su giù, però leggendo questo romanzo Randaggi, scopriamo che invece la difficoltà dell'esistere, la difficoltà del costruire il proprio essere adulti non è per niente semplice. No, esattamente sì, esattamente sì, perché oltre a una serie di difficoltà, direi, congenite, naturali, ideologiche, stanno, e passano necessariamente da una serie di momenti chiave, per voglia dire, ogni volta che un ragazzo abbastona la propria casa, lo fa perché di fronte deve affrancarsi da un modello, che è un paterno, un materno, che è un padre, un madre, e come modello psicanalitico deve essere abbandonato e superato. Però in questo caso, in questo caso particolare, per questi Randaggi, parliamo di una generazione che nasce alla fine degli anni 70, ma tra i primi degli anni 90, oltre a questo abbandono necessario fisiologico, ci sono una serie di elementi che hanno stretto questi ragazzi, questa generazione, a questi Randaggi, che da lì è una generazione che per esempio non ha punti di riferimento culturali, non ce l'ha dal punto di vista politico, non ce l'ha dal punto di vista sentimentale. Nel romanzo, chi l'ha letto, avrà già un po' capito, ci sono tanti personaggi che in effetti sembrano essere deficitari una sorta di capacità di intrecciare delle relazioni viste e sicure. Tommaso esce con delle ragazze senza nome, come dice lui, dietro figuriamoci, è totalmente incapace di concludere una relazione amorosa, ad ora cerca degli uomini qualcosa di suo padre, no? è chiaro e l'orale invece cerca attraverso la relazione sentimentale di capire di spostare sempre un po' la propria identità, la propria sessualità, quindi per vedere se in effetti c'è qualcosa di autentico anche un po' più avanti, no? E non è un caso, ecco, che questa generazione maturi questo senso di sperdimento, di incapacità di raggiungere la maturità, perché storicamente è vissuta il momento del tutto particolare, perché è stata la prima generazione della decrescita e quindi dopo i nonni come Furio che hanno superato le guerre e sono affrancati da un sistema naturalmente molto faticoso, molto drammatico, però hanno iniziato a salire la parabola di benessere, la parabola di benessere che è aumentata poi con il boom economico, è arrivato poi il momento di raggiungere l'apice con questa generazione e che cosa si è scoperto che in realtà non c'era la luce verde all'orizzonte di Cerco Gerard e delle grandi guerre, no? Non c'era proprio niente e quindi questo è stato uno dei grandi motivi di sparisamento generazionale. Non è un caso che Romano si è diviso in tre parti dati a come puntelli, come colonne, tre eventi reali che segnano proprio questa distrazione, questo sperdimento, questa nascita del randagismo che sono nella prima parte il G8 di Genova, nella seconda gli attentati di Atocia del 11 marzo 2004 e nella terza i movimenti studenteschi dell'onda 2007-2008. Sono proprio tre momenti fondamentali nel quale questa generazione insomma ha avuto difficoltà di capire che cosa fare, come arrivare alla vita. Io vorrei prima di chiudere questa conversazione parlare di poesia. Alcuno si chiederà e cosa diavolo c'entra? E c'entra sì perché c'è della poesia sbriciolata in questo romanzo Marco Ammenighi. Sì, ce n'è molta. Ce n'è molta un po' deriva da una serie di amori e di ricerche totalmente personali, totalmente toscane perché è un libro che oltre che geograficamente respira molto la lingua toscana e quindi per scriverlo sono tornato a leggere molti toscani della tradizione del novecento e insomma si troverà da poesie di Carducci ma anche alcuni riferimenti ai romanzieri dell'iniettitudine come per esempio Federico Toschio Romano Bilenchi ma anche Cassola per esempio che va vissuto proprio in queste zone e poi ce ne sono molte altre in effetti sono poesie 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 in forma di canzone perché ho sempre ne ho sempre letta e ascoltata tante di questi tipi di poesia in particolare devo dire c'è stato un poesa che ho letto molto in quei mesi la fine in cui stavo la fine della scrittura almeno della prima tesura del romanzo ed è Mario Sant'Agostini e guarda caso Mario Sant'Agostini ha scritto un un'architologia che si chiama proprio I testi del Malani che sembra esattamente coniato per Piero questo personaggio marchiato dall'incapacità di stare vicino alle persone di esprimere realmente ciò che prova può andare incontro che c'è proprio queste idee e quindi sì a un certo punto mi sono persino divertito partendo da una poesia di Mario Sant'Agostini che si chiama La Lettera a briciolarla proprio in un capitolo magari non lo dirò perché così lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori i prossimi lettori perché sicuramente una sorpresa molto particolare Marco Amerighi autore del romanzo Randaggi romanzo pubblicato da Bollati Boringhieri ma prima di salutarci qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Allora guarda come sempre ne ho tanti leggo tante cose contemporanee e proprio di oggi è un libro che si chiama Firenze Mare di Simone Innocenti quindi vedi che torno sempre al al luogo è un libro molto molto particolare perché Firenze Mare probabilmente sappiamo che Firenze non sta sul mare ma l'autore va a spiegare come mai in realtà Firenze è una città di mare è una successione è una poesia prima è un modo appunto di intendere intendere il mondo e ne ho un altro po' ancora sul pomodino ma insomma sarebbe una lista molto lunga direi che mi fermo a uno grazie grazie davvero Marco Merighi del tempo che ci hai dedicato buona serata grazie grazie a te Livio sempre un piacere